Serviranno a realizzare i primi interventi alle condotte agrarie colpite duramente dal ciclone Atos e dall'esondazione del Dirillo le prime 200.000 euro stanziate dalla regione Sicilia. I danni sono stati ingenti ma in tal modo, spiega Giovanni Cosentini, direttore del consorzio di Bonifica numero 8, si potrà ripartire ed evitare che la stagione irrigua venga messa a repentaglio. Noi abbiamo avuto dei danni notevoli per effetto del ciclone Atos e anche dell'apertura della diga del Dirillo che tecnicamente ci dicono era necessaria, urgente e impronogabile perché abbiamo avuto diverta buona parte della condotta di adduzione delle acque alle condotte secondarie di distribuzione quindi mettendo in grave pericolo l'inizio della stagione irrigua del 2012 che partirà fra pochi giorni dal mese di giugno. Abbiamo subito lanciato questo grido d'allarme, abbiamo interessato immediatamente la prefettura, abbiamo interessato soprattutto l'assessorato regionale risorsa agricola ed alimentare. Devo dire che questa sinergia di azioni della prefettura, l'assessorato ha dato una prima immediata risposta a seguito di un sopralluogo che ha voluto fare il dottore Dario Cartabellotta, direttore regionale dell'agricoltura e a verificare di persona questi danni e a rendersi conto che bisognava ripristinare più presto le condotte per evitare ulteriore danno o meglio una beffa agli agricoltori che già sono segnati da notevoli danni e da tutta una crisi profonda del comparto agricolo. Ci hanno assegnato immediatamente 200 mila euro che grazie a queste somme, grazie all'organizzazione interna del consorzio con i propri perai e i propri mezzi, significa per noi una possibilità di realizzazione del lavoro per 400-500 mila euro. Questo ci consentirà, speriamo, già abbiamo iniziato, in urgenza di realizzare le opere di ripristine e quindi di rimettere in sesto la condotta e poi andare a verificare che non ci siano ulteriori danni una volta messa in pressione la condotta e che viceversa possa essere avviata la stagione in rigua nella sua normalità e al regime. In dato giorno 8 è prevista una riunione ad Acate al Castello dei Principi di Biscari per fare il punto della situazione. I danni provocati dall'esondazione sono stati ingenti, se da Bruxelles arrivano segnali incoraggianti sul fronte risarcimento, interventi sono stati assicurati dall'eurodeputato Lavia, la questione non è semplice e gli agricoltori colpiti nel frattempo sono in ginocchio.